florida 8 settembre 1980 festa della natività di maria santissima verrà a voi come fuoco oggi figli prediletti vi riunite qui in numero grande venite dagli stati più lontani di questa nazione per vivere due giorni di cenacolo con me è questa l'ora di raccogliervi con me nella preghiera e nell'amore che deve crescere fra voi fino a rendervi una cosa sola perseverando con me nella preghiera mi potrò preparare a ricevere il dono dello spirito santo che vuole comunicarsi a voi in maniera sempre più piena e questa la sua ora poiché dalla sua potente azione di amore sarà purificato e rinnovato tutto il mondo egli verrà a voi come fuoco ardente e bruciante verrà come testimone di mio figlio che mai è stato così vilipeso e tradito nella sua persona e nella sua parola verrà per ricondurre il mondo alla perfetta glorificazione del padre preparatevi a ricevere questo grande dono che il mio cuore immacolato ha ottenuto per voi sono la vostra mamma bambina guardate a me per diventare più piccoli la vostra piccolezza e la mia grande forza raccoglietevi oggi attorno alla mia culla e offritevi a me come i piccoli fiori profumati di amore e di fiducia e secondiamo insieme il volere del padre perché quanto ha stabilito per la salvezza del mondo presto possa essere compiuto